Allora, schiacciate bene un hamburger, fino fino fino. Mmmh, questo profumino. Tagliate un panino per hamburger. Ho preparato un po' di prosciutto. Che cosa faccio là? Ora ve lo faccio vedere. Andiamo a rompere un uovo. Ora ci mettiamo un po' di sale. Guarda. Chiudiamo l'hamburger. Allora. Ok. Abbassiamo il gas. C'è l'uovo. Poi, andiamo a mettere un po' di ketchup. Di maionese, scusate. Poi, se volete, anche ketchup. Voilà. Marciamo a temperatura dell'uovo. Poi, prendiamo una fetta di prosciutto. Là. Una la mettiamo di qua. Voilà. Ok. Ora andiamo a rompere un pochino il torno. A me piace così. Questa cucina meglio. Ecco, così. Vedete? Ecco. Mmmh. Buono. Qui il panino è pronto. L'hamburger è quasi pronto. L'uovo è lo stesso. Ci siamo, eh? Allora. Prendiamo l'hamburger. Andiamo a mettere là. Mmmh. Buono. Poi, spegniamo il gas. Uno. Due. Andiamo a prendere l'uovo. Mettiamo sopra. Mmmh. Buono. Mettiamo questo nel lavandino. Dopo lo laviamo. Ed ora. Parte finale. Et voilà. Et j'en fais. Pa 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 pa. Ed ora lo andiamo a tagliare. Ed ecco qua. Guardate che bello. Che delizia che è dentro. Guardate. Accompagnata da una bella birra. Mmmh. Ciao ciao. Ciao ciao.